Voi siete di un'altra taglia, voi siete i campioni d'Italia. Per la squadra ciclistica Androni Giocattoli Sidermec, il 2019 è già iniziato. La squadra del team manager Gianni Savio ha effettuato il raduno che segna il passaggio di stagione al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, ospite di Pino Buda, patron della Sidermec. Il raduno di Cesenatico è diventato una bella consuetudine, che ha un buon influsso sulla squadra. Nel 2018 sono state ben 31 le vittorie conquistate, con il campionato italiano a squadre che dà diritto alla partecipazione al Giro d'Italia del prossimo anno, e oltre 100 podi della squadra dell'anno scorso mancavano Davide Ballerini e Ivan Sosa, passati rispettivamente alla Stana e a Sky, ma c'erano i nuovi arrivati Matteo Busato, Miguel Flores, Daniel Munoz, Mattia Viel e il neoprofessionista Leonardo Federigo.